we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudera e ragazzi finalmente abbiamo la notizia tanto attesa di questa season numero 3 del capitolo 2 di fortnite l'arrivo ufficiale dei veicoli nelle tarde ore del pomeriggio di ieri ormai anzi a sera inoltrata abbiamo ricevuto la data ufficiale ve la farò vedere insieme ad altre curiosità parleremo anche del bundle che sta per uscire insieme ai veicoli e di un probabile prolungamento della season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed eccolo qua raga sbada bam con questa immagine fortnite nella sua pagina ufficiale di twitter annuncia l'arrivo dei veicoli e come avevamo programmato insieme con la patch 13.40 it's not just a name it's a warning experience the fortnite joyride update on 5 agosto 2020 ragazzi quindi finalmente domani riceveremo tanta tanta roba interessante l'arrivo dei veicoli vi ricordo che stravolgerà molto probabilmente tutto il gameplay modificherà anche appunto ovviamente i movement per quanto riguarda lo spostamento tra una location e l'altra e qual posizione migliore se non farle uscire quando il livello dell'acqua ovviamente è arrivato al minimo quindi la mappa è completamente scoperta vi ricordo due cose molto veloci per quanto riguarda i veicoli avranno un tot di benzina quindi dovrete ricordarvi che non avranno appunto movimenti infiniti per fare benzina ci sono ovviamente i benzinai quelli speciali che avete visto nel corso di questa season sparsi per la mappa ma non preoccupatevi o una volta che salite sui veicoli aprite la minimappa vi vengono segnati sulla mappa le posizioni dei benzinai potremo trovare finalmente le jerry can che sono le tanniche di benzina che ci permetteranno di portare con noi una scorta di carburante e quindi non rimanere mai a piedi e vi ricordo anche che appunto le pompe di benzina saranno interagibili con i veicoli e quindi potremmo fare rifornimento all'infinito quattro tipi di tre tipi di veicolo piccolo medio grande ovviamente dal più piccolo al più grande cambia anche la la salute del veicolo stesso la velocità e la durata del boost quindi anche lì avremo la possibilità di utilizzare il nostro insomma ragazzi non vedo l'ora perché domani ne vedremo davvero delle belle andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è un argomento davvero molto felice da dire molto interessante finalmente per la prima volta dopo tre anni di fortnite una ragazza vince le qualifiche delle fncs si chiama moquil zoidic 94 punti dalla svezia credo non so bene quella bandiera lì dovrebbe essere svedese credo e complimenti a lei per essersi piazzata al primo posto finalmente arriva anche la controparte femminile dove questo universo è ovviamente dominato da più che altro i ragazzi ovviamente chi è quante donne giocano a fortnite dai quante donne giocano a fortnite scrivetemelo qua sotto nei commenti ciao facciamo la domandina con gli sei una donna giochi a fortnite brava scrivi qua sotto nei commenti e andiamo avanti ragazzi a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo anche che siamo entrati nella rotation delle nuove ltm che porteranno la conclusione del summer splash quindi tutto il periodo appunto che ha caratterizzato sia la parte finale di luglio che caratterizzerà le prime settimane di agosto arriviamo in una modalità davvero molto interessante perché si chiama arsenal e questa modalità è una delle mie preferite come stile di gioco si comincia tutti con un'arma potentissima e man mano che si fanno le kill l'arma automaticamente cambia e se ne ha una di minor potenza quindi l'ultimo che riesce a fare la kill con l'arma più debole vince la partita davvero molto bella giocatela perché è sempre stato una modalità che mi ha attirato l'avevamo tra l'altro anche vista un paio di mesi fa se non ricordo male nella modalità creativa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle modifiche lo sapete meglio di me hanno disabilitato le barche si pensava che le avessero disabilitate per quel glitch che vi ho fatto vedere ieri sapete che utilizzando la barca potevate attraversare la cascata che c'è ad atlantide nella nuova location e quindi andare dietro non essere colpiti ovviamente ma voi stessi potete colpire in realtà no c'era un altro glitch e ho uno spezzone video vediamo se riesco a farvelo vedere mannaggia pensavo di avercelo cioè in realtà ce l'ho datemi un secondo che ve lo trovo ed eccolo qua ragazzi lo spezzone video datemi un secondo che ve lo faccio vedere direttamente con le barche si poteva utilizzare un glitch che ci permetteva di avere fino a un milione di oggetti dello stesso tipo quindi come vedete questo tizio qua è morto dalla safe e ha cominciato a droppare una quantità esagerata di paracadute davvero molto divertente da vedere ma continua a droppare paracadute ma molto molto sbilanciata per quanto riguarda appunto il gameplay e a questo punto barche disabilitate forse le riabiliteranno domani non lo sappiamo ma questo era il motivo tra l'altro voglio farvi vedere subito un altro spezzone di gameplay perché sono apparse sotto l'acqua vicino alla spiaggetta quella piena di roccia per spiegarvi dove la spiaggetta piena di roccia immaginate la la casa a forma di h avete presente quella che trovate praticamente voi avete spiagge andate verso il mare da spiagge vi faccio vedere il video così è più facile da farvi capire ragazzi questa spiaggetta in poche parole dove c'è il benzinario a sinistra e a destra ci sono quelle quattro casette colorate ecco sotto qua ragazzi come vedete sono apparse due cose molto molto particolari che richiamano effettivamente i vecchi magazzini muffiti e non fare il magazzino muffito non sappiamo perché siano arrivati non sappiamo se è un errore che siano arrivati o se è una cosa voluta fatto sta che è un paio di giorni fa non c'erano mentre adesso ci sono potrebbe essere un ritorno di magazzini ma io me lo auguro mi piacevano tantissimo poi tornare indietro con i ricordi è sempre un piacere per quanto riguarda fortnite quindi staremo a vedere e avete sicuramente visto anche l'altro spezzone di gameplay perché insieme alle macchine arriverà anche la skin il bundle del crash dummies si chiama così nei file di gioco l'omino in poche parole delle crash test con tanto di backpack piccone e anche una copertura volevo appunto farvi vedere questo spezzone per farvi appunto capire di cosa stiamo parlando lo avevamo già scoperto oramai due o tre settimane fa era già presente in game quando il livello dell'acqua era molto alto purtroppo distrutto nei cassonetti buttato un pochettino lì davvero molto carino tra l'altro presente anche nella schermata di caricamento che si ottiene livellando il pass battaglia devo dire che ci sta non mi dispiace diciamo dovrebbe avere come rarità la rarità appunto raro e un bundle che appunto ci permetterà di ricordare l'arrivo dei veicoli su fortnite e arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi perché purtroppo potrebbe esserci un prolungamento della season di 2 barra 3 settimane vi riporto indietro al secondo giorno di uscita di questo di questa season 3 quindi se non ricordo male torniamo indietro al 17 giugno ora perdonatemi se mi sbaglio il 17 giugno fu già scoperto che le settimane presente presenti nei file di gioco non erano in realtà 10 ma erano 12 il che vuol dire che ci porterebbero ad arrivare al 3 settembre noi sappiamo che la data di fine ufficiale di questa season è il 27 agosto diciamo che il 26 agosto diciamo che anche se fosse stesa per un paio di settimane non ci sarebbe assolutamente da stupirci perché oramai è una cosa che fanno spesso e volentieri insomma ragazzi qual hype veramente tanto spero lo sia anche per voi domani vediamo i veicoli ma io vi ricordo che per oggi le news sono finite vi ringrazio per aver guardato questo video e vi ricordo che mi trovate adesso in live su twitch ciao